buonasera a tutti e a tutte da andrea cartotto un videocorso che mi fa molto piacere proporvi per mostrare soprattutto che si avvicina ora alla didattica digitale che da tempo esistono risorse preziose come quella che osserviamo quest'oggi genial lai e che queste risorse didattiche digitali sono alla portata di tutti cosa faremo quest'oggi insieme eccoci andremo a creare una immagine interattiva che prenda cioè vita da parte di coloro che la vedranno quindi dei nostri allievi dei nostri destinatari e dall'immagine potremo passare rapidamente ad un video di approfondimento su youtube oppure ancora ad un testo di approfondimento allora sito di riferimento genial punto l y nulla da installare è una risorsa premium cioè largamente gratuita e con alcune funzionalità previste per piani a pagamento e basta un comune browser per accedervi ricordo di utilizzare sempre come preferenza google chrome mozilla firefox la prima volta occorrerà cliccare su create your free account o su start creating ve lo mostro un secondo andremo a digitare un qualsiasi indirizzo email con password o cliccheremo su continue with google per scegliere un account gmail o un account google suite se nella nostra disponibilità dal secondo accesso in avanti faremo invece il log in operazione che anch'io vado a fare ora come vedete clicco a destra su continue with google e il mio browser mi propone gli account in questo momento operativi qui sul mio computer io scelgo uno degli account ho scelto un g suite vengo riconosciuto scopriamo anche che genial lie ha un suo cloud cioè che i progetti una volta costruiti rimarranno poi qui all'interno ho fatto un po di pulizia dei vecchi progetti mantenendo solo l'ultimo quello nuovo lo creiamo ora tutti insieme allora vado sul più un click tasto sinistro e poi scelgo interactive image con il tasto sinistro clic come avete visto nella finestra precedente le possibilità didattiche non si limitano all'immagine interattiva ma qui lascio a voi la scoperta o vi do già appuntamento ad un prossimo video corso con un'altra splendida funzione di genial lie bene clicchiamo ancora sul più tasto sinistro quindi clic tasto sinistro sul riquadro al centro e diciamogli dove si trova la nostra immagine di partenza nel mio caso sul mio notebook si trova nella cartellina dei download dove ho avuto cura di preparare una immagine di una nota opera d'arte i girasoli di van gogh un clic su apri poi un clic sulla miniatura dell'opera e un clic su accept ora ho due strade utilizzo le maniglie di angolo le maniglie angolari di ridimensionamento per porzionare cioè rimpicciolire o ingrandire la mia immagine se non l'ho fatto prima per qualche motivo se invece la desidero per intero clic sul pulsante full quello con le quattro frecce respingenti e per dargli l'ok un doppio clic tasto sinistro proprio qui sul riquadro in cui stiamo lavorando potete anche effettuare una pressione del tasto invio sulla tastiera vi accorgete di aver fatto bene perché ad un dato momento ecco dopo alcuni secondi si apre il cosiddetto editor cioè la finestra di modifica i pulsanti rotondi viola che osservate già sul quadro sono due esempi preconfezionati che ora andrò a togliere un clic su ciascun pulsante rotondo viola e poi un clic sul bidone in alto a sinistra delete clic perché ora i buttons come sono chiamati in questa colonna di sinistra li inseriamo noi guardate scorro ed ecco qui pulsante youtube pronto un clic posizione casuale con le maniglie d'angolo tasto sinistro premuto me lo dimensiono tasto sinistro ancora premuto sposto il pulsante dove io desideri e ci siamo a questo punto guardate già che ci troviamo in questa fase vado a prendermi scorrendo l'elenco è piuttosto ricco vedete vado a prendermi il pulsante mondo che per convenzione io di solito mi regolo così raffigura l'apertura di un sito web lo clicco eccolo qui con le maniglie d'angolo me lo ridimensiono lo ingrandisco e poi questa volta tasto sinistro premuto lo metto sulla diagonale nel punto sostanzialmente opposto e ora un po di lavoro l'abbiamo fatto ma bisogna dare l'interazione a questi pulsanti e allora osservate quanto è semplice un clic sul pulsante youtube perfetto l'interazione si dà con un clic sul pulsante dito queste le tre opzioni di interazione previste tooltip un commento cioè in gergo testuale che appare quando posizioniamo il puntatore sul pulsante window che è una nuova finestra che si apre per mostrare ad esempio un testo scritto da noi ma soprattutto link per poter avere questa riga all'interno della quale andremo ad incollare che cosa secondo voi avete già osservato sullo schermo vedete che mi sono aperto due schede distinte di chrome bene in una ho youtube e ho ricercato girasoli van gogh combinazione ho trovato guardate che binomio perfetto l'audio quadro commentato e allora perfetta risorsa per all'unibes perfetta risorsa per all'unih ma soprattutto inclusiva per tutti perché è l'inclusione che io ottengo con lo strumento digitale se usato bene mediato dal docente adesso io clicco chiaramente metto in pausa l'audio quadro mi copio in alto dopo averlo selezionato l'url del filmato clicco sulla linguetta editor e qui all'interno vedete clic tasto destro e tasto sinistro su incolla indirizzo esteso me lo indica anche sotto inizia con http pallino da lasciare così perché significa che le operazioni si aprono a parte lasciando davanti agli occhi anche l'immagine originaria e un clic su save perfetto ripetiamo la operazione con il mondo un clic sul mondo un clic sul pulsante dito un clic sul link e questa volta mi acchiappo la scheda chrome di wikipedia l'enciclopedia libera seleziono in alto tasto destro copia la biografia di van gogh e a questo punto torno vedete alla primissima linguetta quella del mio genial lie tasto destro in colla e un clic su save immagine interattiva realizzata tempo tecnico i minuti che come vedete abbiamo utilizzato e che sono quelli del nostro video corso abbiamo terminato come faccio a mostrarla ai miei allievi bene non troverete un ok un fatto ma troverete un pulsante blu in alto a destra all set con una sorta di missile accanto clic bene nella versione a pagamento abbiamo la possibilità anche di rendere il progetto privato e addirittura accessibile con password tuttavia la versione gratuita ci permette di avere un progetto pubblic ma non crediate che significhi che diventi di diffusione mondiale tutt'altro è anzi lasciamo spento l'interruttore riutilizzabile così che la diffusione all'interno della comunità di genial lie sia quasi nulla poi andiamo ad inserire il titolo questo si lo digitiamo noi scopriamo i gira soli di van gogh chiaramente scrivendo le lingua madre come vedete accidenti alla tastiera e alla mia mano è gira soli di van gogh una descrizione che è opzionale fino a un massimo di 300 caratteri e si può andare a appunto digitare ecco commentata una delle opere più famose di van gogh clicca o tocca i pulsanti rotondi sull'opera e do anche la consegna l'ok qui di nuovo non c'è perché trovo all set pronto nella versione free non posso effettuare il download sul mio dispositivo ma posso tranquillamente cliccare su share posso cliccare su copy clic ed ho ricavato un link anzi un url che quando cliccabile diventerà link da pubblicare sulla mia bacheca di classroom sullo stream nella mia bacheca di we school posso comunicarlo tramite email ai destinatari posso inserire il link sul registro elettronico quello che io voglia e sia normativamente previsto a questo punto vogliamo vedere l'effetto finale che stupirà i nostri allievi guardate apro una ancora una nuova scheda di google chrome del mio browser nella barra degli indirizzi in alto clicco con il tasto destro poi vado a dire incolla tasto sinistro premo invio sulla tastiera e magia voilà l'immagine a nostra disposizione titolo autore descrittivo consegna posso anche tramite questo pulsante clic mettere completamente a schermo intero l'immagine guardate che bella risorsa per la dad per la dd ma anche per le lezioni in presenza e a questo punto io clicco sul pulsante youtube e in una nuova scheda ho l'audio quadro eccolo clicco perché non desidero più vederlo ok e ho sempre la mia opera non mi sia mai chiusa questa scheda di chrome clicco sul mondo e ho la biografia di van gogh dell'autore ecco in sintesi guardate con tutto sommato poche mosse come abbiamo creato un contenuto interattivo stimolante e che come la gran parte delle risorse per la dd e per la didattica digitale non ha mai un fine solamente ludico strumentale ma è un modo accattivante contemporaneo di trasferire interesse e contenuti agli allievi e ai nostri destinatari quindi a voi la prova pratica su strada ancora un caro saluto da andrea cartotto e grazie come sempre per l'affetto e la stima con cui mi seguite ciao